E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Tra le leggi e i fenomeni dei diversi piani di vita c'è sempre una corrispondenza. Comprendere questa regola significa risolvere molti dei tanti paradossi e segreti della natura. Anche se al di sopra della nostra portata vi sono molti piani di essere, con l'applicazione del principio della corrispondenza ne possiamo scoprire molti lati che, altrimenti, rimarrebbero oscuri. Inoltre, essendo questa una legge universale, vale su tutti i piani, materiale, mentale, spirituale. Gli antichi ermetici davano molta importanza a questo principio, tanto da considerarlo uno dei mezzi mentali più efficaci per l'eliminazione degli ostacoli che impedivano allo sguardo dell'uomo di infrangere i muri del mistero. Grazie alla sua applicazione si riusciva ad intravedere il volto della divinità egizia Iside e si imparava a passare con intelligenza dal noto all'ignoto. Un po' come accade con i principi geometrici, in base ai quali si possono misurare le dimensioni di tutti gli oggetti e i movimenti di soli e pianeti, pur standone lontani.